Mi chiamo Silvano Bianchi, ho 24 anni, quest'anno è la terza mascherata che faccio per il Carnevale di Vioreggio. Ho iniziato a fare questo lavoro. Tre anni fa, dalla voglia che avevo fin da bimbetto di realizzare una costruzione per il Carnevale, tre anni fa mi sono buttato senza neanche troppa esperienza, ho detto proviamoci. Infatti inizialmente Mario è stato un disastro, però con il tempo mi sono ripatto. Poi c'è chi mi fa i vestiti, chi si occupa di grafiche, perché ritengo che comunque sia questo un lavoro di gruppo. Credo che sia una cosa che si può sfruttare per ampliare sempre più lo spettacolo che ha la costruzione, in modo tale anche che diventi una specie di racconto, una storia, qualcosa sicuramente in più rispetto a un unico pezzo. Non sono uno che è pure particolare, puro amare l'insieme, studio l'insieme, quindi di conseguenza l'impatto, il movimento, il colore. Poi come va, va, vediamo, ci lo metto tutto.